Siamo pronti? Siamo pronti? Questa luce che ci sarà quando ci sono le cerimonie molto in grave. La luce di gara sempre è proprio per quanto ci sono le cerimonie. Questa è una cappella, anzi è la cappella arrivata dal Santo Padre. Quindi qui ci sono le sedate di ragione della Santa Fessa, anche i padesimi, il giorno del Padesimo del Signore, e anche c'è il concato. Adesso è un po' l'ordine. Chi vuole...